Musica Salve amici del Centro Meteo Italiano, tanto sole nel secondo weekend di aprile grazie all'alta pressione. Vediamo però nel dettaglio le previsioni per sabato 13 aprile. Inocue velature in transito al mattino al nord ma con tempo asciutto e sole prevalente altrove. Al pomeriggio nessuna variazione con cieli per lo più sereni ovunque. In serata e nottata tempo asciutto con ampie schiarite e locali addensamenti in transito al nord. Temperature in ulteriore aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi. Per ulteriori dettagli seguite come sempre le previsioni aggiornate sia sul nostro sito che sulla nostra app Meteo. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano.